Ben trovati telespettatori di TV6 e l'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di lunedì 20 novembre. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che sono attese condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio nazionale, ad eccezione delle regioni del medio e basso di Riatico dove sono attesi residui fenomeni di instabilità. La ventilazione media risulterà intensa dai quadranti settentrionali e i mari saranno principalmente mossi o molto mossi, mentre dal punto di vista termico le temperature risulteranno in lieve calo. Nel dettaglio sull'Abruzzo al mattino le condizioni atmosferiche risulteranno ancora leggermente instabili, soprattutto sul basso Abruzzo dove nel corso della notte avremo un passaggio instabile, mentre nel corso del pomeriggio e della sera assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con i cieli che risulteranno principalmente nuvolosi o poco nuvolosi. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Grazie.